dovranno lavorare duramente e invece la tua analisi di questa gara qual è Luca? hanno dovuto rincorrere fin dall'inizio e questo ha inevitabilmente concesso spazio agli avversari non sono mai stati in grado però di correggere l'atteggiamento tattico in campo ci resta solo il tempo per ringraziare i telespettatori che sono stati con noi un ringraziamento a Luca Marchegiani come sempre a mio fianco grazie a te Fabio Grazie 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 Grazie